Ciao amiche, ciao amici, come vivere bene col principio dei 90 decimi? Allora, cos'è questo principio dei 90 decimi? Il principio indica che tu al 90% puoi controllare le cose perché dipende da come le interpreti e quindi puoi interpretarle nel modo giusto Hai un 10% invece fuori dal tuo controllo, quindi è inutile che perdi tempo a controllarlo Agisci sull'altro 90% Ti faccio un esempio, se una persona passa, tu avevi la tazzina di caffè lì, passa, ti scontra e ti fa rovesciare il caffè Quindi non potevi evitarlo, è il 10% che non potevi evitare Ora però puoi interpretare questo 90%, puoi agire diversamente in funzione Puoi arrabbiarti, puoi sviluppare rabbia e rancore Oppure puoi trovare un modo per pulire la tazzina di caffè Per fare un esempio senza lamentarti Oppure potresti magari, chi ti ha scontrato è una persona di sesso opposto al tuo Potresti cogliere la palla al bazzo per conoscerla e invitarla Guarda, visto che mi hai fatto cadere questa tazzina, adesso te ne offrirò un'altra io Proprio per fare un esempio, ok? E quindi potrai trovare, diciamo, hai un 90% di possibilità di interpretazione Quindi quel 10% la tazzina sarebbe comunque caduta Ora cerca di interpretare bene questo fatto tazzina caduta E lì hai delle grosse chance, delle grosse possibilità Lì devi agire E se tu riuscirai a fare questo avrai il 90% di leva per riuscire a ottenere gli obiettivi che vuoi ottenere Per questo video è tutto Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici Ciao